Massimiliano Valeriani, vicepresidente del Consiglio regionale Partito Democratico, sta per iniziare la discussione sul piano casa. La Regione Lazio, una volta approvato questo piano casa, dovrà dare, o anche senza l'approvazione di questo piano casa, dovrà dare un parere definitivo sul grande progetto dello Stadio della Roma. Il piano casa intanto serve per eliminare alcune strutture e esagerazioni previste dalla legge attuale, vigente, che attribuiva delle premialità per alcuni progetti attuativi, soprattutto nelle grandi aree urbane, per esempio la Roma, che stravolgevano e nei fatti possono stravolgere i piani regolatori. Quindi noi mettiamo mano al piano casa per contenere questi dati. Cioè modificate la vecchia legge Ciocchetti? Esatto, in alcune parti. E poi per quanto riguarda lo Stadio della Roma partirà una procedura ad hoc, perché ovviamente alcune competenze sono di questa istituzione della Regione Lazio. Come verrà completato l'iter in Consiglio comunale, avremo 180 giorni per esprimere tutti i pareri riguardo al progetto. Dopodiché, se le cose saranno conformi, il progetto rimarrà compatibile anche con le aspettative dei proponenti, a quel punto, a passare di 180 giorni, potranno iniziare i cantieri. Ma qual è la posizione? Certamente non è una posizione personale, sarà una posizione del Presidente Zingaretti, della Giunta e dell'Assemblea. Il Comune ormai va a spada tratta su questo Stadio della Roma. Molti reclamano, come sempre, eccetera, eccetera. Però esistono due Stadi a Roma, lo Stadio Olimpico e lo Stadio Flaminio. Che fine faranno qualora si dovesse realizzare veramente lo Stadio della Roma? Ma intanto io esprimo un mio punto di vista, che non è ovviamente della maggioranza e del Presidente, ne cominceremo a discutere quando questo provvedimento, questa proposta arriverà in Regione. Quindi non l'abbiamo fatto fin qui, non per pigrizia, ma perché non ci compete ancora. Piano Casa che sta approvando, nulla a che vedere con questo. No. Il tema dello Stadio della Roma nasce da una legge nazionale. La legge sugli Stati? La legge sugli Stati che consente a un proponente di chiedere al Comune che deve ospitare questa nuova infrastruttura di esprimere se c'è l'esistenza di un interesse pubblico a sostenere questo progetto. E quindi, diciamo, i proprietari della S Roma hanno preso un'iniziativa sulla base di una legge nazionale. Nessuno preventivamente avrebbe potuto dire ne ha, ne va rispetto a questa possibilità. Credo che, invece, per quanto riguarda nello specifico il progetto presentato dai proprietari della S Roma, per davvero l'interesse pubblico ci sia. E quindi è una grande occasione per la città, una grande occasione non soltanto per dotare una delle squadre della capitale di un nuovo impianto più competitivo, più bello, più accogliente. Ma è una grande sfida per la città, perché si tratta di un'opera pubblica, un'opera che con opere pubbliche annesse genererà un volume di investimenti superiore al miliardo di euro. E con il tempo che viveva adesso, questo è un argomento fortissimo, prevede la realizzazione, oltre all'impianto sportivo, di una grande centralità direzionale, quindi la scommessa dei proponenti, ma anche per la città, è quella di portare delle grandi major, delle grandi multinazionali in quel quadrante di Roma e quindi dopo 15 anni, 20 anni, che Roma ha perso un po' lo scettro di capitale del terziario, può essere un grande fatto in controtendenza. E poi, non per ultimo, ma anzi per la cittadinanza, l'aspetto più importante, perché è lì che si cementa l'interesse pubblico, può diventare l'occasione per una ricocitura urbana importante, perché quella è un'area depressa, un'area che ha bisogno di interventi importanti, e con i progetti presentati, anche con le prescrizioni del Comune di Roma, con le opere pubbliche, sulla viabilità, sul parco, che sono state previste, e sul trasporto su ferro, possono rappresentare una grande occasione per Roma. Quindi non solo per la Roma, ma io penso una grande occasione per Roma. Tornano gli americani, un mini piano Marshall? Sì, il calcio ormai è diventato un fattore di business, quindi non bisogna meravigliarsi. Gli Emirati Arabi stanno comprando squadre in giro per il mondo, grandi sceicchi si divertono a comprare squadre titolate in Europa. La Roma ha avuto, dopo tante traversie, questa, secondo me, una fortuna. sicuramente dal punto di vista sportivo è stato un rilancio a questa nuova gestione pallotta. Il calcio è un grande fattore di business. La Roma è un grande marchio, vendibile in tutto il mondo, quindi gli americani forse sono entrati in questo mondo senza sapere ciò che compravano. Adesso che hanno visto la potenzialità del marchio Roma, ovviamente cercano di trarre il maggior profitto possibile. Il maggior profitto possibile per loro significa grandi vantaggi anche per la comunità della nostra città e anche per l'interesse più legato alla passione delle competizioni sportive. Ma non teme che qualora ci fosse una parere positiva e che realmente lo stadio da Roma venisse realizzato entro il 2017 che poi automaticamente ci sarebbe una richiesta magari dall'altra società tipo la Lazio per ottenere, per fare lo stesso stadio, uno stadio del genere. Infatti la legge nazionale non c'è scritto tutti tranne la Lazio quindi io capisco che la domanda è fatta dal giornalista biancoceleste ma se c'è un progetto compatibile con le previsioni di piano regolatore e in questo caso sono compatibili con il piano regolatore se non ci sono prescrizioni e obiezioni diciamo di natura tecnica e amministrativa perché no? Noi dobbiamo vedere queste richieste e queste potenzialità come un fattore di sviluppo per la comunità cittadina perché l'argomento più importante che hanno portato al tavolo di discussione i proponenti di questo progetto della Roma è il miliardo e 300 mila euro di investimenti e in questo momento è un argomento importante se il progetto di Lotito o comunque di chiunque voglia costruire uno stadio a beneficio dell'altra squadra della nostra città della Lazio se si trova un'area compatibile un progetto compatibile con le previsioni di piano e che non stravolge l'assetto urbanistico di una città forse questo non è da escludere però la domanda non la deve fare a noi la deve fare all'Otito ma che fine faranno il Flaminio e lo stadio olimpico? C'è questo problema? Ma io non sono preoccupato perché la nostra è una città affamata di impianti sportivi ci sono tante discipline nobili che non hanno impianti adeguati l'Olimpico può diventare come mi è parso di capire dalle intenzioni della federazione lo stadio per davvero della nazionale può diventare un luogo usato molto più di quanto sia oggi per appuntamenti diciamo di richiamo internazionale può essere un luogo per il rilancio dell'atletica leggera d'altronde l'Olimpico è uno stadio che non è perfettamente compatibile con le esigenze delle squadre di calcio questo chi frequenta lo stadio olimpico lo sa bene quindi non ci trovo nulla di scandaloso francamente d'altronde oggi il tema delle grandi squadre nel calcio globalizzato è la loro patrimonializzazione quindi lo stadio diventa un fattore non più eludibile per una maggiore robustezza finanziaria tutte le squadre che hanno uno stadio di proprietà sono quelle che poi riescono a essere più competitive e più forti anche dal punto di vista sportivo e quindi non ci trovo nulla di male che dopo la Juventus lo faccia un'altra grande squadra del panorama calcistico della nostra paese che è anche la squadra della nostra città buon lavoro grazie